Ciao a tutti amici, sono il Custo. Oggi completeremo la missione Radio Silence di Handshake su Grey Zone Warfare. Per farlo dobbiamo arrivare qua, nella casetta isolata nel sud della città di Nantaven, esattamente qua. Io ci vengo a piedi perché non ho voglia di farmi la strada da Bravo 1 o da Bravo 2, quindi potete farlo anche voi. Per risolvere la missione dobbiamo distruggere la radio che si trova al secondo piano di questa casa, in questa stanzina solitamente chiusa, io l'ho già aperta, veniamo qua dove c'è la postazione radio, F per sabotarla. La questa è completata, basterà tornare in base e recuperare la ricompensa. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento o mi piace, noi ci vediamo alla prossima e bella!